Ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano. Fase di maltempo in arrivo sull'Italia con fenomeni intensi. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per giovedì 25 novembre. Molte nuvole al mattino con piogge sparse e specie sul nord ovest e regioni centrali tirreniche, locali fenomeni anche sulle isole maggiori, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo instabile o perturbato su buona parte della penisola con precipitazioni diffuse, fenomeni più intensi e anche a carattere di nubifraggio sulla Sicilia. In serata è notata maltempo che interessa soprattutto a nord-est e regioni del centro-sud, con piogge temporali. Neve in calo fino a 1200 metri sulle Alpi e 1600 metri sull'Appennino. Temperature minime in generale rialzo, massime in calo al nord, sul medio tirreno e sulle isole maggiori. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.